Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora oggi per forza di cose è la giornata di Paolo Di Bala e Giorgio Chiellini, entrambi ai saluti, entrambi all'ultima partita con la maglia della Juventus all'Allianz Stadium, quindi di fronte al popolo, al loro popolo, la prima anche ufficialmente con la nuova maglia della Juventus-Argata Adidas che abbiamo visto in questi giorni, un po' di nostalgia, un po' di tristezza sta arrivando dentro il mio corpo, ma ovviamente ne parleremo magari stasera o domani nei post partita, nelle pagelle, tutto quello che ne deriverà. Attenzione che potrebbe essere addirittura l'ultima partita sia di Di Bala che di Chiellini, perché in più occasioni mi è parso di sentire ultima partita con la maglia della Juventus e non ultima partita in casa, quindi non vorrei mai che ci fosse già questa idea di non giocare l'ultima con la Fiorentina a Firenze, ma questa è soltanto una miellazione. Lasciamo un po' da parte questo discorso, parliamo di due argomenti che sono come sempre molto divisivi, ok? E cioè la maglia numero 10 e Massimiliano Allegri. Vorrei partire proprio dalla maglia numero 10, perché oggi Pogba, l'avvocato, l'avvocatessa di Pogba, la nuova agente di Pogba, ovviamente sempre entro alla scuderia di Raiola, incontrerà a ora di pranzo, quindi magari proprio in questi istanti la Juventus, la Juventus andrà a formulare un'offerta ufficiale a Pogba, che poi dovrà capire se accettare oppure no. Attenzione che ne abbiamo parlato anche ieri, io vi ho già detto, non so se Pogba sceglierà la Juve di fronte a uno stipendio molto alto come quello che potrebbe offrire il PSG. In questo momento, ragazzi, mi viene anche un po' difficile pensare che Pogba possa accettare uno stipendio nettamente al ribasso come quello che andiamo ad offrire noi. Io rimango un po' allerta sotto questo punto di vista. Capisco invece chi mi dice, guardate, che fare questa operazione su Pogba è una follia dal punto di vista finanziario, perché andiamo a fare un contratto multimilionario ultra trentenne, quello che diventerà sarà un giorno ultra trentenne. Sono molto d'accordo, capisco le preoccupazioni di queste persone. Dall'altra parte, credo che sia impossibile mettere in discussione Pogba intanto in Italia, alla Juventus, per quello che ha fatto la Juventus, anche con Allegri, perché ho già letto qualcuno che dice sì, ma con Allegri... no, con Allegri ha fatto sempre molto bene le due stagioni, con Allegri ha fatto dieci gol in tutte e due, più innumerevoli assist, tantissime partite. Bisogna capire un attimo dal punto di vista degli infortuni, perché sicuramente Pogba è un altro giocatore, ma il Pogba che arriva, ragazzi, anche se è magari peggiorato, non è più il Pogba dei tempi d'oro, rimane comunque il miglior centrocampista che abbiamo in Rosa. Penso che una squadra in cui ci sono Locatelli, Arthur McKennie, Zaccaria e Rabiot a centrocampo in Rosa non possa permettersi di schifare Paul Pogba, anzi, credo che la Juventus con l'acquisto di Pogba vada a fare un passo definitivo nel centrocampo, perché per tante volte, tanti anni, abbiamo sempre comprato dei giocatori che aumentavano, sì, magari la qualità del reparto, ma nessuno che potesse fare il salto decisivo. Aggiungiamo che, mi auguro di vedere, almeno uno tra Rovello e Fagioli l'anno prossimo a Torino e capite che la qualità del centrocampo, il tasso tecnico del centrocampo, che è quello che chiede sempre allegre, pulizia nei passaggi, gioco tecnico pulito, ecco, allora in questo modo riusciamo ad aumentare. Dico solo però, io qua alzo le mani, non sarei a favore della maglia numero 10 a Paul Pogba. Non lo sarei. Intanto perché lui ha dimostrato di sentire il peso di quella maglia, ricorderete quando aggiungeva il più 5 scritto a penna. In seconda battuta perché credo che la maglia numero 10 abbia un altro significato. Ero gasatissimo all'epoca, immaginare Pogba con la 10, infatti vi ho fatto vedere anche le foto, ho la maglia, quella nera bellissima, con la 10 di Pogba, però a me il numero 10 la Juve te la devi guadagnare, te la devi sudare. Ho cambiato anche un po' idea negli anni rispetto a quello che era la mia posizione, io ero uno di quelli che non avrebbe schifato la 10 a Bernardeschi e già questo dovrebbe farci capire che cosa vorrebbe dire. Provate a immaginare un universo parallelo in cui danno la 10 a Bernardeschi. Lasciamo stare. Al di là di questo la 10 è qualcosa, è di più, è di più. Per quello che vi dicevo, Chiesa non è un 10, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, Chiesa non è un 10 perfetto, ma dare la 10 molto più a Chiesa rispetto a Pogba in questo momento qua. Perché la 10 te la devi sentire, la 10 è qualcosa che va a identificarmi il simbolo della Juventus, non qualcosa a livello marketing che me la fa vendere di più perché, ehi, che cosa fighissima. E sono convinto che la Juventus ragionerà o almeno andrà a proporre a Pogba, poi magari alla già proposta Chiesa, Chiesa ha già accettato e quindi no. Nel caso contrario, la Juventus ci proverà e io non sarei molto d'accordo nel vedere Pogba con il 10, ma questa è soltanto la mia umile opinione. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, invece, mi è dispiaciuto, neanche tanto, vedere le reazioni e i commenti di alcune persone nel video che ho portato con Fabiana della Valle. Un video del genere, in cui porto una giornalista sul canale, è ovviamente un video non di opinione, è un video di informazione. Fabiana ha delle informazioni che arrivano da delle fonti interne alla Juventus, o comunque nel mondo del calcio, che le passano delle informazioni e che lei ci riporta tramite il giornale per il quale lavora, oppure, dato che ci ha fatto la cortesia di venire qua, tramite questo stesso canale YouTube. Quando un giornalista o una giornalista vanno a raccontare quelle che sono le notizie, non sono opinioni, non sono speranze. Quindi è inutile che la gente mi venga a dire allora hai detto cose che fanno piacere alla società, che fanno piacere all'Allegri, sei corrotto, sei venduto, non dici la verità. Perché quelle non sono opinioni. Noi molto spesso confondiamo queste due cose. Il fatto che la Juventus voglia andare avanti con Allegri non è una mia presa di posizione, una cosa che voglio, che spero. E' quello che accadrà, molto probabilmente, stando alle informazioni che sono state raccolte. E' diverso. Io la mia posizione l'ho già data. In una condizione normale di Juventus, questa stagione, insufficiente, gravemente, mettete il 3 davvero che ha detto Allegri, non mi interessa il voto, lo diremo le ultime due giornate, dopo le ultime due giornate. In una situazione normale, questa stagione, vale l'esonero immediato per l'allenatore. Perché la Juventus fare zero titoli e farli così è raccapricciante. Questa è un'opinione, ed è la mia opinione, che è ben diverso da la Juventus andrà avanti con Allegri perché lo conferma. Quella non è un'opinione. Quella è una notizia. Quella è una conferma. Quello è quello che potrebbe molto probabilmente accadere. Sono due cose diverse. Poi, io mi ritrovo in una situazione molto simile, dato che stasera arriva Sarri, a quella in cui stavo vivendo con Sarri. Io, c'ho un video sul canale, vi metto anche lo screen se volete, che si chiama Non sono contento di Sarri, ma andrai avanti ancora. Io in questa stagione non sono contento di Allegri, ma nel momento in cui scegli Allegri per 4 anni e sai chi è Allegri, Allora vai avanti con Allegri e ti adegui perché te lo sei scelto e devi dare continuità al progetto che hai voluto iniziare. Non l'ho voluto iniziare io. Anche qua c'è un video sul canale che vi dico Allegri per me è un ottimo allenatore, ma non è quello che serve alla Juve in questo momento. Queste sono opinioni. Il fatto che non mi sia piaciuto Sarri, ma sarei andato avanti. Il fatto che Allegri lo considero un buon allenatore, ottimo allenatore, ma non buono. Io lo considero un ottimo allenatore. Questa stagione mi sta facendo un po' stricchiolare, ma questo non cambia. Ma non avrei scelto Allegri. Il fatto che se vado avanti con Allegri, queste sono opinioni, che è diverso dalle notizie. Sono due cose diverse. E anche tante volte quando qualcuno mi dice, sì però sei venduto, non è che se uno non pensa quello che vuoi tu e quindi se non penso, se non ti dico Allegri è un coglione, Allegri è una merda, Allegri è un incompetente, non è che sono venduto. Semplicemente la penso diverso da te. Io non sono soddisfatto di quello che ha fatto Massimiliano Allegri in questa stagione. Non sono soddisfatto. Ma non sono qui che voglio offendere l'allenatore della Juventus e la Juventus che continuerà ad andare avanti con l'allenatore, nonostante non sia quello che vorrei io. Io qui le offese su questo canale non le vedrete mai. Non mi vedrete mai fare dei video in cui dico che la gente è della merda e la gente è incompetente. Ce n'è pieno il mondo di persone che lavorano in questo modo, che scrivono in questo modo, che raccontano il calcio in questo modo. Io non lo racconto così. Al massimo vi dirò non voglio andare avanti con questa persona. Credo che il ciclo di questa persona sia finito. Penso che non possa fare meglio di così. Non arriverò mai, mai a fare delle crociate. L'anno scorso io vi ho detto, io cambierei Pirlo, perché arrivati a questo punto non mi sembra pronto per essere natore della Juventus. E poi vi ho detto, comunque spero di vincere tutte le partite da qui alla fine con Pirlo in panchina. Se verrà riconfermato Pirlo, metterò da parte la mia opinione e sosterrò la Juventus di Pirlo. Perché qui ci sono delle persone che sono più tifose delle loro idee piuttosto che della Juventus. E tutto ciò era capricciante. Chiudo, ci vediamo stasera con il post partita di Juventus Lazio. Ultima partita a Torino di Chiellini di Balla con la maglia della Juve. Non sono pronto per tutto questo.